E poi ho maturato una significativa esperienza nel settore, sono in grado di gestire un team di collaboratori, utilizzo i programmi software di ultima generazione, parlo cluentemente tre lingue e ho spiccate capacità relazionali e di comunicazione. Bene, adesso però mi dica due ragioni per cui dovrei assumerla. No, mi dica lei una ragione per cui non dovrebbe assumermi. Guarda, io le ho fatto una domanda, non può permettersi di rispondermi così per favore. No, è lei che non deve permettersi di sminuire la mia professionalità. Guardi, lei non sa forse con chi sta parlando, mi dica quelle due ragioni per favore. Ma qui diamo i numeri. Sì, diamo i numeri, 4, 5, 6, poi 8. Non dovevo venire a fare questo colloquio, lo sapevo perché mi avevano detto che lei è una persona che sto portando. Traguardo lavoro, domanda, offerta, formazione, legalità, psicologia e le vostre storie. Con Mila Cantagallo e Andrea Mori il lunedì alle 21 su Rete8.